Noi abbiamo fatto una scelta diversa, ovviamente quest'anno un po' colpiti dalla decisione federale di abbattere drasticamente il numero degli oriundi possibili, avevamo in essere molti contratti che abbiamo dovuto sciogliere per gioco forza e la società aveva due strade di fronte, o investire ancora tanto senza avere una certezza su quello che sarà poi il campionato che sta per iniziare, oppure provare una seconda strada, rifondare un po' la squadra, anche perché andare all'estero e rastrellare giocatori importanti, poi 6-7 non sai mai se sono con la testa giusta per cominciare un conto e uno, un conto 6-7. L'abbiamo riferito a puntare su gente che conoscevamo per lo più e fare un campionato di attesa. Ridimensionare da un lato può comunque essere qualcosa di difficilmente digeribile, però dallo stesso tempo dà uno stimolo in più provare a ripetersi, a continuare a essere competitivi anche in una strada che magari non si desiderava. Sì, ma ripeto, non è che noi abbattiamo le nostre volontà di competitività, semplicemente abbiamo inteso non buttare i soldi, io lo dico proprio francamente, perché oltretutto anche la non partecipazione alla Champions, ma nel momento in cui è avvenuta la decisione, da me condivisa, erano 4 le possibilità di oriundi, poi dopo non sono state portate a 5 sulla base di proteste, quindi non c'era possibilità di fare una competizione sinceramente accettabile. Allora noi ci buttiamo con una squadra che vogliamo che sia combattiva, competitiva e che difenda in maniera adeguata i titoli che sono ormai scolpiti sia nella baghega che sulla maglia.